Questa stagione di spettacoli della 72esima estate teatrale veronese dovrà soggettarsi alle regole imposte dalla pandemia del coronavirus, in particolare negli allestimenti teatrali del Festival Cespiriano del Teatro Romano. Questa sede storica del Festival e luogo della ripartenza per lo spettacolo Veneto accoglierà nove prime nazionali e cinque coproduzioni di prosa più spettacoli di danza. Altri spettacoli nel chiostro di Santa Eufemia e di Forte Gisella. Ma l'apice un po' sacrificato negli allestimenti sarà l'omaggio a William Shakespeare a sottolineare il legame fra il drammaturgo e la città scaligera. Il programma dettagliato è stato presentato dal nuovo direttore artistico Carlo Mangolini il quale non pensava di esordire con queste limitazioni. Sinceramente no, è stato per tutti un periodo difficile e quindi non era scontato niente per cui questa ripartenza ha un altissimo valore simbolico per tutto il comparto dello spettacolo e sono contento che con tutte le difficoltà che abbiamo avuto siamo comunque riusciti a far ripartire l'estate teatrale. Nonostante le limitazioni negli allestimenti, sul palcoscenico del Teatro Romano per il Festival Shakespeareano si esibiranno numerosi artisti della prosa. Quest'anno abbiamo inevitabilmente dovuto fare delle serate evento, un po' come tutti i festival che sono quei pochissimi che sono riusciti a ripartire, per cui delle serate evento ma con dei grandi protagonisti. Come diceva lei ci sarà il tema di Shakespeare, l'inaugurazione shakespeariana è il 31 luglio con Paolo Rossi che farà una serata evento proprio dedicata a Shakespeare, reinventato a modo suo, poi a settembre ci saranno altri protagonisti sempre sul versante shakespeariano, una inedita versione di Romeo e Giulietta con protagonisti Ugo Pagliaia e Paola Gasma, però a luglio iniziamo anche con il classico, i temi del classico che è un altro tema molto frequentato dal teatro romano, quindi andrà in scena Isabella Ferrari con la Fedra di Ghiani Strizzos il 24 luglio e per non dimenticare quello che è stato il lockdown, un'inaugurazione con un progetto che è nato proprio durante il periodo in cui eravamo tutti a casa a causa del coronavirus e quindi Claudio Bisio inaugurerà questo teatro in una versione completamente rivista il 18 luglio con Ma tu sei felice.